Benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo qui con Nimer, un giocatore del nostro gruppo Telegram e parleremo del mazzo di Lowe. Ciao Nimer! Ciao a tutti! Allora, iniziamo a parlare, vediamo l'effetto del leader magari e poi iniziamo a vedere quali sono le carte essenziali di questo mazzo. E poi direi parliamo magari dei match-up, no vabbè, delle combo che sono molto importanti, giusto? Yes! E poi dei match-up magari se hai qualche consiglio da darci? Sì, 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 va bene. Ok, quindi allora il leader Trafalgar Low ha l'abilità una volta per turno pagando due donne, se hai cinque personaggi già in campo puoi riportarti in mano un personaggio e giocare un personaggio di costo 5 o inferiore di un colore diverso, quindi questo essendo un mazzo bicolore, quindi sarà composto da carte verdi e da carte rosse. E quindi ci si potrà alternare, si gioca proprio sull'alternanza tra carte rosse e carte verdi. L'altra cosa che faccio notare è che lui ha solamente quattro vite essendo appunto bicolore. Esatto, fino adesso abbiamo visto che tutti i leader bicolore hanno queste caratteristiche diciamo, il vantaggio di giocare due colori è in questo caso un'abilità molto molto forte, molto impattante da board e lo svantaggio di avere solo quattro vite. Sì, è molto vantaggioso perché praticamente moltiplichi le carte essenziali e fortissime, prendi sia quelle rosse che quelle verdi e ce le hai entrambe. Esatto, poi considera che con un pool ristretto siamo alla prima espansione, ovviamente magari i mazzi monocolore devono mettere delle carte per arrivare a 50 che magari non sono fortissime. Quindi, attingendo da due colori sicuramente il power level delle carte medio è più alto. Una cosa che faccio notare sul leader, che ho scoperto recentemente tra l'altro, è che si può utilizzare l'effetto anche senza mettere in gioco niente. Quindi, se vogliamo ad esempio mettere in salvo una bonnie piegata e non giocare nient'altro, possiamo farlo. O anche semplicemente riprendere in mano una carta per rigiocare la stessa carta. Ovviamente in questo caso il costo della carta l'ha ripagato la seconda volta perché non la stai mettendo in gioco per l'effetto, perché è dello stesso colore fondamentalmente, ma la stai rigiocando. Ti sei liberato uno spazio e la puoi rigiocando. È una sfumatura che in realtà serve molto più spesso di quanto uno non possa immaginare. Quindi per assurdo, anche se io ho zero carte in mano, posso usare l'abilità del leader per riprendere in mano una carta? Esatto, esatto. Su Nami, ad esempio, su Bonnie sono gli utilizzi più... ma magari voglio semplicemente riprendere in mano un counter 2 per il turno dopo. Uno Tama che ho utilizzato, un Brook che ho usato per fare valore e poi mi darei quello in mano per avere due. Ok, ok. E da... non so, partiamo da quali sono le carte essenziali? Prima le guardiamo un po' oppure iniziamo subito a... Io andrei subito al sodo. Alla fine è un leader che per sfruttare la sua abilità ha bisogno di carte che costano poco, no? Ok. Quindi partirei dai drop a 1, dai drop a 1 essenziali nel match, che sono poi comuni a tutte le liste. Ok, quindi... Ne hai già una lì, l'abbiamo anche citata prima. La so. Otama. Sì, allora l'abilità on play dai a un personaggio avversario meno 2000 di potenza durante questo turno, quindi dura non per una sola battaglia ma per tutto il turno, a costo 1 e a potenza 0. Quindi non viene mai usata per attaccare e inoltre al counter più 2000, quindi direi che è tipo essenziale in tutti i mazzi rossi. Carta rotta, decisamente troppo forte per quello che fa, noi ne abusiamo volentieri. L'effetto è forte in combo con Jet Pistol, Nico Robin, ma è forte anche in generale per gestire la bordo avversario, come dicevi tu, non dura per una battaglia, no? Quindi se tu hai un chi da 8 piegato, no, che dovrai tutte le volte attaccare l'8000, già solo uno Tama mi permette di minacciarlo con 6000, cioè fa tutta la differenza del mondo. Se poi aggiungi che mi aiuta a sviluppare, solo per un don, mi aiuta a sviluppare i miei 5 personaggi, e che quando la riprenderò in mano non solo potrò utilizzare l'effetto nei turni successivi o nel turno stesso per diminuire ulteriormente la forza, ma mi vado a prendere un counter 2, è una carta che ovviamente nel mazzo fa tantissimo gioco. Già che ci siamo, voglio specificare una cosa, se si arriva già ad avere 5 personaggi in campo e se ne vuole giocare un altro, quello che bisogna fare è mandare a K.O. uno dei personaggi e sostituirlo con un personaggio dalla mano. Mandare a K.O. spostare nella trash. Gli altri due carte da uno che tutti giocano sono i due tutori, quindi Nami. Nami costa 1 a 2000 di potenza, ha l'effetto on play, guarda 5 carte in cima al tuo mazzo, quindi prendi 5 carte e scegli non un personaggio ma una carta, attenzione perché qua era stata stampata sbagliata le prime in inglese, poi corretta in corso d'opera, quindi in realtà molti box hanno già la versione corretta che dice prendi una carta con i tratti Mugiwara, Straw Hat, Crew, diversa da Nami e aggiungerà la mano. Ovviamente quando la prendi devi farla vedere all'avversario, quindi l'avversario saprà che carta hai preso e poi le altre carte le vai a mettere sotto al tuo deck. Quindi una precisazione su questa carta è diversa da Nami, quindi anche la Nami dello starter deck non può essere presa perché hai sempre di nome Nami. Va bene, fa tutto quello che vuole il mazzo, costa poco, ha il counter, va aggiungendo una carta in mano, tra l'altro vedremo che poi il pool di ricerca è molto ampio, quindi ci aiuta anche... Ho parlato di tuttore, tecnicamente è scorretto, il tuttore ti fa scegliere una carta nel mazzo, diciamo che è un effetto di source delle prime città, ti dà ampia scelta comunque, puoi prendere un personaggio con Rush, puoi prendere un blocker, puoi prendere anche degli eventi forti che poi vediamo, che magari giochiamo anche in poche copie, lei e Bonnie, che magari possiamo andare a vedere direttamente se non è un problema svizzare tra i colori, sono il motore del mazzo, no? Cioè il mazzo si basa molto sul rimbalzare su e giù queste due carte per farci avere tante carte in mano, trovare quello che ci serve per andare in vantaggio risorse. Specialmente a Nami perché questo effetto qua è on play, mentre Bonnie può essere riutilizzata ad ogni turno se non viene spaccata. Esatto, però anche qui se te la riprendi in mano non te la puoi prendere, quindi... È il modo migliore per salvarla. Sì, esatto. Ti costa un don in più tutte le volte, però l'effetto è più forte. Innanzitutto perché cerca lei stessa, a differenza di Nami. È vero. Tu puoi fare Bonnie, cerco Bonnie. E poi, a differenza di Nami, va su entrambi i colori, perché Nami cerca solo carte rosse. Non esistono Stroret Crew Verbi al momento. E mentre lei può cercare Zoro, può cercare Luffy, può cercare... Aspetta, facciamo così, scriviamo Supernovas e li vediamo direttamente tutti. Ah, ok. Sai che non lo sapevo? Ok, quindi anche Luffy e Zoro... Cerca Luffy, cerca Round Table, se la giochiamo, in 1x, e cerca Jet Pistol. Quindi, e volendo anche Radical Dino. Quindi in realtà è più forte, è più costosa ma più forte. Perché ti permette poi magari di trovare quella carta rossa che ti manca per attivare il leader, no? Cioè, ti permette di cercare entrambi i colori. Mentre Nami rischi di fare la partita sempre... Cioè, anche rimbalzandoti in Nami non riesci mai ad andare sull'altro colore. Mentre con Bonny, c'è un dettaglio che giocando tanto il mazzo poi... Chi se ne accorde, no? Ok, sì. Il problema di sviluppare Bonny presto è che è sempre a rischio, no? Che te la uccidano prima che tu la possa usare. Normalmente il giocatore low non vuole piegarla subito, i primi turni. Ma la deve comunque... Prima o poi la devi mettere se vuoi sviluppare la borda, è una alternativa. Il consiglio è sempre di non farlo. Cioè, Bonny... Poi Deku... Sento la voce di Deku nelle cuffie che mi dice non giocare Bonny se non la U. Normalmente low tende a giocare Bonny solamente quando ha poi i don per riprendersi le mani. Ok? Perché è una carta troppo importante per perderla contro un Cat Viper o contro un Kinga7. E' ovvio che dipende dai match-up. Ci sono dei mazzi che non possono risolverla piegandola, no? Quindi blu, ad esempio, peggio che può farti è un Jimbe. Però volendo pazienza. Jimbe te la manda in fondo al mazzo? Jimbe te la manda in fondo al mazzo, esatto. E' quasi come se fosse K.O. Esatto, esatto. Però è l'unica carta, non tutti la giocano. Quindi poi bisogna fare le proprie valutazioni. Normalmente è meglio usarla, giocarla quando la si può usare. Poi magari la vuoi lasciare lì perché ne hai un'altra in mano o vuoi far speccare un attacco all'altro come se fosse una sorta di blocker, no? Perché è una carta che va subito risolta. Quindi lui se può la attaccherà. O se no te la riprendi in mano. Io ho visto ancora delle persone che gli attacchi bonni hanno il blocker o cosa, ok. Cioè non hanno la cosa di difenderla. Eh, ma è anche sbagliato difenderla perché dipende molto da cosa ha l'altro. Perché se l'altro ha tre personaggi è inutile difendere bonni. Cioè prima o poi te la uccide, capito? E quindi anche specarci un blocker per prendersi un attacco in più su bonni, boh. E' roba che se è l'unico attacco che può fare, allora sì. No, sì, sì, sì. Sì, ognuno fa le sue valutazioni, però anch'io sarebbe da difenderla. Se so che non me la posso perdere. Anche perché il turno dopo ti garantisce una pescata in più. E poi ci sono gli otto blocker a costo uno, i quattro capone, dei cuponi, gioca tre di capone. Però normalmente, diciamo che standard si giocano i quattro chopper, cercavoli con Nami, e i quattro capone cercavoli con Bona. Quindi abbiamo capone, chopper e invece i killer non vengono giocati? I killer io ne gioco due, c'è chi non li gioca. Io li gioco perché anche loro sono supernovas, spesso hai più tre personaggi, e ti possono anche far pescare una carta. Sì, e beh, anzi, con l'uo hai sempre tanti personaggi, quindi la... Sì, però diciamo che quella carta lì non sempre la peschi, perché vuoi che te lo uccida un Anikorobium, vuoi che te lo piega un Cat Viper, vuoi che te la... cioè, non è pescaggio, diciamo, affidabile, ok? Visto che comunque, tipo Deku, le liste di Deku e quella che ho giocato a Sanite, e quella che gli avevo passato io, e quella di Deku le trovate sia su Twitter che sul sito solito Pistop Dext. E diciamo che Deku non le gioca. Ok. Vedi che ha tanti uno per lui, li ha messi lì sotto. E lui non gioca i Cat Viper. Ah, ok. No. Scusami, non gioca i Killer, no, no, i Cat Viper 4 sempre, tutti, chiunque. Ah, ok, ok, quindi adesso possiamo... Ok, quindi abbiamo visto Obbligatori, Nami, Bonni e i Blocherini. Otama e i Blocherini. E Otama, ok. Opzionali Killer a due, diciamo. Ok. E veniamo alle altre carte da due, che c'è, beh, tre, quattro Cat Viper per forza, che poi si chiama Nekomamushi. Nekomamushi. Sì, eccolo, resta un personaggio avversario di costo tre o meno. Quindi lui entra, resta... Io che gioco Kaido, ho visto, mi restano il Blocker, perché è l'unica cosa. Sì, contro Kaido è l'unico match-up in cui non ti serve. In Mirror, contro Rosso e contro Verde, questa carta mi dice costantemente. Perché comunque tu nei primi turni vuoi prendere il predominio sulla board, vuoi risolvere le Okiku, vuoi risolvere le Nami, le Niko Robin. Ma anche solo per uccidergli una Bonnie, che non ha ancora usato. Ed è il motivo per cui non dovresti sviluppare Bonnie, no? Perché sei sempre sotto a Cat Viper. Questa carta, questa con Otama, diciamo, abbiamo visto anche, parlando con Deku, che nei Mirror sono le carte che decidono di più la partita. Ed è interessante vedere che nessuna delle due è cercabile dai tutori. Quindi sono carte a cui si dà molta importanza in fase di Mulligan, nei Mirror Match e contro Verde. Perché se tu mi sviluppi Niko Robin, io faccio Cat Viper, Otama su Niko Robin, Niko Robin va a due, te l'attacco con leader, magari te la posso attaccare anche con un'Nami che avevo messo prima, è quasi sicuramente morta, no? E averti tolto un Okiku o una Niko Robin subito, appena l'hai giocata, fa veramente tanta differenza. Okiku e Niko Robin sono nemici del mazzo, perché tutto quello che ti toglie pezzi piccoli, esatto, e anche Cat Viper è un nemico del mazzo, ovviamente, perché ti dà fastidio. Ok, quindi vediamo Okiku. Don per uno, quando attacca, può restare un personaggio avversario di costo 5 o meno. Quindi ovviamente per attaccare, non puoi attaccare il personaggio che va a restare, va ad attaccare il leader o un altro personaggio, e in più ti sposta un altro personaggio. Quindi magari, primo attacco lo fai con Okiku, sposti un altro personaggio che vuoi eliminare, poi dopo attacchi con il leader quel personaggio. Esatto. Base, base. Ok, invece la... Molto fastidiosa, molto fastidiosa. Ok. Niko Robin fa una cosa simile, no? Anzi, è ancora più diretta. Ancora peggio, da un per uno. Quando attacca, manda KO un personaggio avversario che costa 3 mila o meno, tipicamente i blocker, oppure tutte le chiavi del marzo Dio. Esatto. Tutto, fondamentalmente tutto. Quindi diciamo che... E non si può mandare a KO da sola, tra l'altro, perché 3 mila o meno, lei ha 4 mila. Esatto. Beh, c'è Otama sempre. Sì, se c'è una combo Otama e Nico Robin contro Nico Robin avversaria, poi può funzionare. Esatto. Quindi diciamo che per... Anche perché tu da loro magari non vuoi attaccare all'inizio troppo il leader avversario per non dargli risorse in mano, no? Quindi Cut Viper ti aiuta a non sprecare i tuoi attacchi, ma a focalizzarli sulla bordo avversaria. Per fare poi quel controllo bordo che ti serve un po' a te per sviluppare l'altro bordo più tranquillamente, visto che l'altro non ha pezzi poi per contestartela. E un po' per rallentare il gioco dell'avversario, perché comunque tu hai queste 4 vite che ti mettono comunque in una situazione di svantaggio iniziale, no? Hai un attacchio in meno da assorbire. L'altra carta da 2 sono... L'altra carta molto forte che si gioca in 3 o 4 pere è Brooks. Ah. Brooks perché ha un effetto di gioco molto forte che ti fa assegnare i don a un personaggio o al leader e quindi dà valore a tutte le carte tipo appunto gli altri Brooks, anche a Cut Viper, anche a Nico Robin. Se tu hai giocato Cut Viper il turno prima, il Cut Viper diventa un 5, no? E può attaccare. E tu hai pagato 2 per assegnare 2 e quindi stai sviluppando board quasi gratis, se vogliamo. Sì, però hai perso un counter più 2.000. Non l'hai perso perché giochi low e te lo riprenderai in mano. Ah, ok, ok. Quindi nel caso di low è una carta che ha senso scendere in campo. Altrimenti per mettere un... Cioè forse magari Zoro che gli alleghi un don tutti vanno a più 1.000 e quindi è come se fosse un 4.000. Giocare un 4.000 può avere senso. No, negli altri rossi lo usi quasi sempre come counter. Il low invece è una carta fondamentale perché ti permette di utilizzare i pezzi che hai giocato ai turni precedenti non spendendo don veri ma spendendo i don di Brook e poi come otama una carta che poi ti tirerà in mano per avere il counter 2 in mano o per riutilizzare il suo effetto. Quindi anche qua... Però scusa, paghi 2 per assegnare quegli stessi 2 don a qualcuno e allora gli assegno direttamente i don e Brook me lo tengo in mano. Eh, ma non hai messo il personaggio sulla board che ti aiuta a usare il leader, no? Eh, quella è l'unica nota positiva perché altrimenti... Vabbè, non è poco. No, 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 sì, sì, ok, per low allora ha senso, ma altrimenti... Eh, anche perché se non lo tiris su quel turno lì... Lo lasci giù, è un 3000. Eh. Il turno dopo può attaccare e poi te lo riprendi in mano e ripresi un counter 2. Cioè lui ha fatto tre funzioni. Ha fatto estendere la board... Può attaccare un 3000. Ah, beh, usa un altro Brook su di lui. Oppure gli assegni due donne, oppure attacchi un 3000 che ti ha attaccato il turno prima. Sì, se c'è un pezzetto da piccolo. Attacchi una Bonnie che ha usato, cioè... Succede spesso, eh. È una carta che in loro è molto forte. È che queste battaglie tra piccoli non le conosco. Esatto, esatto. Perciò mi guardo a giocare direttamente i 12.000 e dico, vabbè, cosa me ne farei di brutto. Ma perché poi ho giocato pochissimo, quelle che partite sono stato calde, quindi... E ovviamente quando ho giocato contro low, quelle due volte, non mi è mai capitato un king che è proprio il personaggio perfetto. Il king a 7, esatto. Il king a 7 è un'unità. Sarebbe proprio... E invece non mi è mai capitato. Invece mi capita magari contro gli altri Kaido che è totalmente inutile perché non serve a niente. Sì, assolutamente. Lo puoi giocare senza attivare l'aspetto, però l'abbiamo sette lì. Sì, chiusa parentesi la mente. Vediamo, vediamo le Aldecarte Core che quindi sono... Andiamo sui costi 3, direi. Ok. Che sono Nico Robin. No, ok, Nico Robin, che l'abbiamo vista. E va bene. Nico Robin l'abbiamo vista. Non è forte contro Iola, ma è forte contro tutti gli altri. Ok. Nico Robin l'abbiamo vista. E poi c'è Zorro Rush. Se ne giocano 2, 3, 4, dipende. Adesso io ne sto giocando 3. Lui è molto forte come Luffy perché ha il doppio tratto. Ah, ok. Ha il doppio tratto come Luffy. E quindi è cercabile sia da Bonnie che da Nami. Ok, quindi è proprio il compagno, l'attaccante perfetto. Sì. E poi è molto forte con l'ow blocker che poi vedremo davanti. Ok. Poi? Poi c'è la teccia di killerino da 3 che si può non un po' giocare. Deku ne gioca 2, io ne gioco 1. Lui uccide i costi 3 piegati. E' sempre quello dello starter. Quello killer dello starter manda KO un personaggio avversario restato di costo 3 o meno. E anche il trigger play questa carta. Quindi lui è forte con Cat Viper, no? Spiegiamo in 4x. E è forte anche su pezzi che magari noi attacchiamo col leader per vedere quello che succede o con qualcun altro. Lui magari ci spreca dei counter sopra delle risorse e tu puoi fare i killer e glielo uccidi. La cosa carina è che in low lo puoi riprendere in mano. Quindi puoi usare più volte. Ok. Esatto. Praticamente il low è un auto blu. Cioè invece che il blu che rimanda in mano le cose all'avversario è un auto blu. Sì, esatto. E' un mazzo che sfrutta tanto gli effetti on play, no? Quindi tutte le carte che hanno un effetto on play interessante, magari hanno anche counter come questa, come Brook, come Otama. E hanno dei profili decenti, perché comunque 3.000 per 3 è orrendo, sì, si giocano. Le altre carte, no, possiamo andare diciamo al top end del mazzo. Ah no, c'è chi gioca Okiku in low. Non sono un fan, io non la gioco, Otaku non la gioca. Il duty mi sa che ci ha giocato contro online qualche volta, è un altro ragazzo di gruppo. Io ho visto che la giocava. A me non piace, secondo me per loro è troppo lenta. È lenta perché quando attacca, quindi la metti giù lì a seta del turno dopo a legare un don, non resta un personaggio avversario di costo 5.000, è fortissimo. Eh, non so, però non ha il tratto. Non ha tratti, non è cercabile. Non ha counter e appunto mi piace il meno di Nico Robin, quindi costa tanto, ma comunque per low 3 è tanto e quindi no, non la gioco. Bisognerebbe parlare della versione di low con Momo Mozuke, però io non l'ho giocata quasi mai, neanche Deco la giocata e non saprei bene cosa dire. Ah, è vero, scusa, perché noi abbiamo completamente tralasciato il piccolo Momo, in realtà il piccolo Momo può essere... Esistono liste che giocano 12 search, esistevano più all'inizio. Adesso sono un po' dismesse perché comunque volendo giocare a tre tratti vai a togliere consistenza ai motori principali che sono Nami e Boll. Ok, spiego questa cosa perché Momo cerca personaggi con i tratti Wano Country, quindi devi andare a inserire nel mazzo personaggi Wano Country e non ti trova quello che ti trovano le altre, quindi quando ti fai il mazzo low devi andare a calibrare bene le carte che metti. Sì, e alla fine molti decidono di rinunciare ai Wano, tant'è che l'altra carta che si gioca, o non si gioca ai Zoo, io ad esempio l'ho tolta del tutto, Deco ne sta giocando una, che è il Counter 2 che fa l'effetto di Cat Viper, però costa uno in più. Purtroppo costa uno in più. Resta un personaggio di costo 4 o meno. Cioè nel meta attuale è irrilevato. Sì? Abbastanza. Perché Doflamingo li gioca già arrestati, cioè l'unico che gioca dei personaggi a 4 è blu, però li gioca spesso con Doflamingo, li gioca già piegati, e andarle a piegare dopo costo... Cioè il fatto che pagare 3 invece che 2 in low fa una differenza... Uno non penserebbe, ma giocandolo ti assicuro che cambia tutto. Anche perché se ti vuoi fare il trick costa già 2 ogni turno. Quindi anche se sei 10 te ne rimangono 8. Poi ogni turno ti vengono eliminate delle carte, varie personaggi. Esatto, quindi devi ricostruire la bordo. Quindi 3 o 4 donne minimo per rimettere... Sì. Tu immetti che devi giocare un Jet Pistol quel turno lì? Cioè non è banale. Io l'ho tagliata, Deku ne gioca una. È una carta forte sicuramente, però bisogna fare delle scelte. Sicuramente Cat Viper è più forte. Ovviamente se uno cominciasse a giocare l'Oki con l'Eizu, allora magari Momonosuke può diventare utile. È ovvio che cambia completamente il mazzo, perché devi togliere un sacco di carte da... Beh, comunque anche Cat Viper è... Sì, Cat Viper e Rotama sono... Al momento io gioco 8 1. Cat Viper e Rotama. Però sono pochissime. Ok, è vero, anche Otama. Sì. Quindi già sono 4 carte che uno può recuperare con Momonosuke. Sì, 8. Sì, sono poche. Se fai un calcolo statistico, cioè di Supernova ne gioco a 22, dai, una roba così. Ah, ok. Eh. Ok, ok. Vediamo, dunque, le altre carte core, cioè diciamo la carta su cui gira molto il mazzo è low block da 5, costo 5. Eccolo. Fai vedere l'altare perché è più bella, dai. Io mi sono fatto il 4x perché quell'altra non la sopportare. No, ma è in cartaceo proprio? Sì, sì. Blocker on play, puoi rimandare uno dei tuoi personaggi in mano, ti rimandi uno dei tuoi personaggi in mano, gioca un personaggio di costo 3 o meno dalla tua mano. Quindi ha un effetto simile al... Wow. Wow. Il flexer. Nimer il flexer. Flexino. Chi sta dai. Quindi ha un effetto simile al leader, in qualche modo, però non hai il limite di dover rigiocare una carta di costo diverso e non sei neanche obbligato, neanche in questo caso, a risolvere completamente l'effetto. Quindi di base devi rimandare in mano un personaggio del costo che vuoi e poi se vuoi... No, you may. You may. Puoi anche giocarlo e don't block. Sì, sì, sì. Se vuoi giocare quell'effetto on play puoi rimandarti... Puoi fermare al punto che vuoi dalla carta, insomma. Esatto, esatto. Puoi non riprendere in mano niente, riprenderli in mano e riprendere in mano e giocare. Notare che si può riprendere in mano e rigiocare lo stesso. Quindi, quando parlavo di combo con Zoro, il combo banale è metto Zoro, Zoro attacca, metto low, prendo in mano Zoro, scende Zoro, Zoro attacca. Ok? Sto già male solo il pensiero di subire questa cosa. Di solito... Allora, lui ovviamente è fortissimo perché tu ti riprendi in mano una rossa, paghi due, ti riprendi in mano una rossa, che tipicamente è Nami se hai bisogno di pescare di nuovo. Ecco, qua ci andiamo con il centrale. Sì. Ottama o Brooke, se vuoi il counter 2 e magari utilizzare l'effetto sostitivamente, diciamo che Ottama è meglio da riprendersi in mano. Metti lui e a quel punto puoi riprendere in mano un altro pezzo, che magari è una Bonnie che ho usato per pescare, magari è una Nico Robin che ho usato per attaccare e la vuoi rimettere in piedi così non te la puoi attaccare. Cioè, a quel punto si apre un mondo, no? Perché tu puoi riprendere in mano due pezzi e diciamo per mettere uno con l'effetto di leader per mettere l'ho, ma poi anche l'ho te ne fa prendere in mano un altro per rimettere un'altra carta dalla mano. E qua la sventagliata di giocate possibili è infinita. Puoi rifare un cut by per piegarlo, puoi rifare un killer per uccidere di un altro, puoi rimettere Zopa e attaccare. Poi appunto prenderti in mano una Nico Robin per metterla in piedi così il tuo dopo attiva e non te la puoi attaccare. puoi mettere un blocker, cioè puoi fare veramente una marea di roba. E lui è... Per quello che ti dicevo che Bonny è più importante, perché Bonny trova low, ok? E lui è un pezzo fondamentale del mazzo. Rimane un blocker giù con 6.000, può attaccare facilmente a 7 turni dopo, se l'altro è in difficoltà, cioè è una carta fortissima. È una carta fortissima pagata 5, pagata 2 è imbarazzante, ok? Come? Aspetta, pagata 2 perché? Eh, perché la metti in gioco con il leader. Ah, perché? Costa 5. Eh sì, tu rimbalzi Nami e metti low, rimbalzi Otama e metti low. Quindi diciamo che lui è quello che rende il mazzo veramente forte, perché ti fa fare dei turni che sono pazzeschi in termini di costo efficienti. E riutilizzo delle risorse, è un mazzo che può fare valore infinito, no? E quindi l'altra carta da 5 è Luffy. Luffy è una finisher, la conosciamo, viene giocata in Zoro, è un po' imbloccabile dello starter. Luffy Rush. Luffy Rush, sì. Eccolo lì, in bassa destra. Eccolo. Rush, a prescindere, e poi se le alleghi due donne quando attacca... È imbloccabile. L'unico che lo blocca è chi dà 8, diciamo. perché non è un effetto, non è un blocker, no? Vabbè, niente da dire. Anche qui lo puoi pagare due, prendendo in mano un verde e ti serve molto per chiudere le partite. Magari lui è riuscito a mettere dei blocker, ha due carte in mano, tre carte in mano, ti fa i tuoi conti. Comunque è terribilissima questa cosa che tu puoi prenderlo in mano e rigiocarlo. No, vabbè, in questo caso lui no perché costa più di 5. Beh, però lui puoi riprendere in mano. Cioè, se lui ha una vita e poche carte e tu hai una bella bordo apparecchiata di blocker, tu puoi anche giocarlo pagando 5, attacchi, ti tieni due donne e poi te lo riprendi in mano per mettere, non so, un capone o un altro low e il turno dopo ce l'hai ancora in mano pronta a fargli l'ultimo danno. Quindi... Servono gli eventi counter per contrastare questa cosa, ho capito. E poi anche lui ha il doppio tratto come Zoro, lo trovi sia con Nami che con Moni, motivo per il quale se ne giocano 2 o 3 al mazzo, perché comunque non serve averne 4 nel mazzo perché te lo vai a cercare. Lo trovi, lo trovi. Ok. Ok, e poi forse l'ultima carta importante, no, non hai detto che ci sia... no, 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 ci volevo far vedere... giochiamo Drake, c'è io che Deku in 1-2 per, il Drake a 5 per Doflamingo, praticamente col comparire di Doflamingo nel meta lui è una carta molto forte perché uccide i 4 restati, no? Quindi tutti i pezzi che Doflamingo mette di abilità di leader comunque è buono. Andiamo a vedere... Aspetta, faccio prima così perché non so come scrivere. Eccolo lì. Perché l'effetto di Doflamingo è restando un don quando attacca se ha due don allegati prendi una carta da in cima al tuo deck se quella carta ha i tratti Seven World Lords of the Sea puoi giocarla direttamente... costo 4 o meno puoi giocare direttamente restata. Ok? Esatto. Quindi visto che ci sono sempre più... non se ne parlava tanto di Doflamingo all'inizio, eh? No, no. È venuto fuori dopo come mazzo. È un mazzo forte è un mazzo che ha diciamo le due peculiarità di impararsi a mettere a posto le prime 5 caratteri del mazzo. Dopodiché è un mazzo abbastanza dritto in realtà ha un mazzo che picchia perché comunque col fatto che vuoi attivare il leader stai sempre attaccando a Seven. È l'attacco più forte del gioco, esatto. Quindi sì, è un buon mazzo e Drake è una touch. se nel vostro meta nel vostro negozio tanti giocano Doflamingo potete anche metterne due per il solito motivo che comunque fa tanto lavoro. Lui la prima volta che entra lo uccide uno. Può attaccarne un altro perché comunque ha un 6 min. Ve lo riprendete in mano lo rigiocate cioè una volta che l'ha ucciso tre pezzi ha fatto il suo, no? Ha una carta con counter quindi alla fine quando non vi serve potete sempre scartarla per sparare. È una buona carta. È ovvio che costa 5. abbiamo detto che Lowe ha bisogno di giocare tanti giocatori che costano poco quindi non ne andremo a giocare tanti. E invece il Drake dello starter che dà più mille? Non serve a niente. No, perché tanto non è un mazzo d'attacco in cui vuoi più comboso e quindi la tua presenza sulla bordo è molto di gente che intredesce le tue minacce sono i rush fondamentalmente e i low blocker che hai lasciato in campo dal turno privo. E vediamo gli eventi dai per chiudere. Ok, quindi ci lanciamo sugli eventi? Beh, gli eventi sono Jet Pistol che vabbè ne giochi 3 o 4 a seconda e anche lì cercabile se è dinamica da bonni. Allora Jet Pistol costa 4 manda capo uno dei personaggi avversari di costo 6.000 o meno con anche il trigger simpaticissimo attiva questa carta. Simpaticissimo è assolutamente bilanciato per nulla sposta partite che fa il main effect a caso così non si è mai capito perché penso sia uno dei pochi eroi di design del gioco secondo me nel senso che non ha senso che una carta possa fare quello gratis dalle vite però amen ci atteniamo e niente come dicevo la cerchi con bonni la cerchi con nami hai 4 tama che possono portare in range di Jet Pistol quasi tutti perché tu giocandola abbassi la forza e conta la forza attuale non conta la forza stampata no? Quindi anche un forza 8 se tu fai otama Jet Pistol muore e basta è uno dei quei kid grossi tipo kid esatto il kid grosso anche se poi sai delle volte il kid grosso basta far rotare e attaccarlo però un personaggio in piedi che è stato sviluppato in mirror il low dell'altro cioè ci sono talmente tanti target che ne proveremo tutto il giorno cioè la carta è fortissima l'unica scelta è giocare 3 o 4 ah così tante si ok adesso con Deku ne stiamo giocando 3 e un round table se vuoi intanto vederla costa sempre 4 rossa assegna a uno dei personaggi avversari meno di 10 mila di potere durante questo turno e so perché esiste questa carta esatto questa carta serve contro viola il low uno dei pochi difetti che ha come mazzo diciamo oltre alle 4 vite è che ha molta difficoltà a risolvere i pezzi molto molto grossi quindi un mihok tipicamente un mihok te lo tiene di tutta la partita un kaido da 10 te lo tiene di tutta la partita un kaido da 9 il kaido 10 lo so il mihok è quello blu il mihok è un 9 che è quello che ti manda in fondo un personaggio e poi lui è 9000 per te è troppo difficile non lo schia di più eh non lo schia di più esatto per te è troppo difficile non ti conviene mettere così tanti don su un personaggio massimo parti da 6 poi magari lui con un counter 1 te lo salva cioè normalmente lo ignori lo ignori cioè sta lì ogni turno ti fa un attacco e tu te lo suchi con un con un capone con un blocker pure ti prendi il danno ti costa meno sì ti costa meno avendo il mono round table avendo il mono round table magari gli do i soldi perché perché la vai a cercare con Bonnie e la tieni lì e ti dà un out in più contro i personaggi grossi e anche perché volendo la puoi attivare con il la puoi attivare con Nico Robin ma solo uno eh non è che non è che vuoi giocare a 5.000 carte sì noi ne giocamo una è una carta spesso morta a differenza di Jet Pistol che un uso lo trovi sempre qua devi poi anche attaccare cioè se il personaggio è in piedi non è detto che lo uccidi perché con Nico Robin sì no perché tu attacchi con Nico Robin e uccidi un costo un 3.000 ovviamente fai round table metti indosso Nico Robin attacchi uccidi chi vuoi però devi avere Nico Robin già lì da prima cioè è lenta come carta non è però averne una può darti quel senso di sicurezza in più quella cioè tu sai che volendo lo risolvi poi giocherai comunque ignorandolo spesso perché non è detto che te la trovi però diciamo con una touch che si può e l'ultima carta è la touch di Deku il merito tutto a lui non mi convinceva l'ho provata non giro mai senza è Radical Beam allora carta counter quindi da giocare nel turno dell'avversario quando si viene attaccati pagando un don il tuo leader o uno dei tuoi personaggi guadagna più 2.000 in questa battaglia quindi non durante il turno ma solo durante la battaglia poi se hai due o meno carte delle vite questa carta guadagna altri 2.000 di potere quindi se sei beh in effetti low ci arriva presto avere solo 2.000 low ci arriva prestissimo esatto quindi è praticamente un più 4.000 è un è un blast breath senza gioio si do con il trigger il tuo leader uno dei tuoi personaggi guadagna più 1.000 durante questo turno quindi se sei proprio disperato diciamo che questa carta dà un po' quello che mancava sia contro Zoro che contro altri mazzi avere con una sola carta più 4 cioè sposta sposta tanto perché magari lui pensa con il solito 7.000 di ucciderti il tuo personaggio chiave pensa di farti il danno finale tantissime le partite contro Zoro in cui lui ti porta a zero vita a una vita fa il mega attaccone con Double Jumble o con Luffy e lui pensa di ucciderti in realtà tu hai un Radical Bimo o due ti salvi e il turno poi quindi è una carta che sposta danno ma è che sto imparando a giocarla utilizzare nel mazzo e mi trovo molto ti fa sentire un po' più sicuro bene dai direi che abbiamo visto più o meno tutto come se dobbiamo fare magari una macchiosa finale sul mazzo sì non so se hai ancora sì io dovrei andare ma dai cinque minuti ce li abbiamo ok allora ti direi di fare un un mazzo andiamo sul builder e lo mettiamo giù e lo mettiamo e lo mettiamo